buongiorno a tutti e benvenuti ad un nuovo episodio della finanza amichevole il termine di attualità soprattutto nelle ultime settimane è recessione siamo in recessione tecnica stiamo andando in recessione ma cosa significa realmente questo termine è una fase del ciclo economico che indica una temporanea diminuzione dell'attività produttiva che può essere accompagnata da una debolezza dei consumi un aumento della disoccupazione e spesso da un più basso tasso di inflazione generalmente si caratterizza in un calo del pil il prodotto interno l'orto per due trimestri consecutivi questa fase è meno grave della depressione quindi spesso anche questa parola viene enfatizzata molto dai media dire che siamo in recessione non significa essere in forte crisi economica è certamente un avvicinarsi a quel livello ma è una fase del ciclo congiunturale quindi anche questa parola va presa sempre con la dovuta cautela è chiaro che se questa fase dovesse continuare allora ci potremmo avvicinare ad una forte crisi economica la citazione di oggi è la seguente oggi la nostra teologia è l'economia james hillman rendiamo la finanza amichevole vi aspetto